ciao a tutti ragazzi ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi parleremo di quattro aziende europee su cui investire dopo la pandemia cioè analizzeremo queste aziende questi settori proprio per capire le loro prospettive di crescita nel dopo pandemia ma prima di iniziare come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati quindi vi chiedo il favore di lasciare un bel like a questo video per aiutarmi con l'algoritmo di youtube iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti ma iniziamo immediatamente con l'articolo e con il video di oggi allora ragazzi vediamo che in questo periodo la pandemia non molla la presa sull'europa con il rischio quindi del prolungarsi delle restrizioni anche nel secondo trimestre dell'anno con chiaramente inevitabili conseguenze sulle prospettive di ripresa del 2021 il covid sicuramente ha dato un'accelerata ai diversi cambiamenti che sono emersi già prima della crisi in particolare per quanto riguarda il passaggio dal mondo offline a quello online con la conseguente crescita della consapevolezza riguardo a sostenibilità ed ambiente innanzitutto quello che mi preme sottolineare ragazzi è che lo sviluppo dei vaccini efficaci contro il covid 19 sta alimentando la speranza di una ripresa dalla recessione che potrebbe però iniziare più avanti nell'anno rispetto alle previsioni fatte la ripartenza dipenderà probabilmente dalla traiettoria della pandemia dall'efficacia dei vaccini e dalla rapidità della loro distribuzione nel lungo periodo invece l'andamento dell'attività economica in europa sarà influenzato dal proseguimento delle politiche di supporto dall'evoluzione della fiducia di imprese e consumatori e dal livello di disruption provocato dai nuovi accordi commerciali post brexit ad ogni modo con l'avvio delle vaccinazioni vi sono segnali incoraggianti del fatto che si arriverà a una normalizzazione a un certo punto nonostante il numero di contagi ancora elevato quando questa normalizzazione infine arriverà saranno questi quattro settori quelli che probabilmente beneficeranno di una spinta maggiore per quanto riguarda il settore degli investimenti allora iniziamo a capire quali sono questi quattro settori allora ragazzi innanzitutto c'è il settore dei viaggi tutte le società infatti legate al mondo dei viaggi sono state ufficialmente e in maniera devastante colpite nell'ultimo anno dalla pandemia con il crollo verticale degli spostamenti sia per quanto riguarda il business che per quanto riguarda il turismo mi preme sottolineare una società che comunque sta fornendo ottimi segnali e ottimi spunti amadeus infatti è una società leader nella distribuzione di biglietti e fornitura di tecnologie per il settore globale dei viaggi con sede a madrid e infatti questa azienda si è mossa prima degli altri e si è rifinanziata in anticipo rispetto alla maggior parte dei competitor nel 2020 quindi possiamo ritenere con buona approssimazione che amadeus disponga al momento della tecnologia più efficace e abbia la migliore squadra di management del settore con una posizione competitiva decisamente rafforzata dalla pandemia quindi ragazzi questo qui è il primo settore su cui vi consiglio di fare delle indagini io chiaramente qui vi propongo un'azienda che secondo le mie analisi potrebbe andare bene poi ovviamente voi potete cercarne anche altre comunque sicuramente il settore dei viaggi si riprenderà alla grande non appena le restrizioni cesseranno andiamo a capire quali possono essere gli altri settori allora innanzitutto ci potrebbe essere un'evoluzione nel trend dei consumi la crisi legata alla pandemia infatti ha accelerato in modo drammatico la transizione verso l'online in molti ambiti dell'economia non ultimo quello dell'abbigliamento al dettaglio zalando che è una società di e-commerce berlinese operativa in 17 mercati europei inizialmente ha registrato un calo del 40 per cento nella prima parte del 2020 abbiamo potuto approfittare di questa opportunità dato che successivamente il mercato ha apprezzato sempre di più la solidità dell'offerta della società tuttavia siamo convinti che molti investitori non comprendano ancora pienamente le ulteriori potenzialità di crescita e di profettabilità del business di zalando ma ci aspettiamo che queste diventino più evidenti nei prossimi mesi ovviamente ragazzi ho fatto per quanto riguarda questo settore uno studio insieme ad altri miei colleghi e quindi quello che ne è venuto fuori è che probabilmente questa azienda per quanto riguarda il discorso abbigliamento e calzature potrebbe andare bene dopo la pandemia considerato che anche essa sta investendo per quando si dovrà riaprire dopo le restrizioni quindi anche per quanto riguarda questo settore da tenere sotto controllo zalando ma anche altre aziende potrebbero potrebbero darci discreti guadagni se le riusciamo ad individuare altro settore ancora molto importante è quello legato alla sostenibilità come potete vedere nei miei video ce ne sono centinaia di video sul mio canale potete andarli tranquillamente a cercare ci sono parecchi video sulla sostenibilità sì perché ragazzi in questo momento storico è molto molto importante valutare la possibilità di investire in aziende che puntano sulla sostenibilità che dovrebbe essere il diciamo il leitmotiv del futuro i nuovi regolamenti infatti insieme a molti altri fattori continueranno ad alimentare l'onda verde il cosiddetto pollice verde in europa anche infatti l'elezione delle nuove amministrazioni statunitensi quindi con biden presidente punta ad essere più attenta all'ambiente e ad aumentare conseguentemente le spese legate al prevenire catastrofi ambientali infatti proprio negli stati uniti questa è una parte importante del piano di joe biden il nuovo presidente eletto e questo ovviamente rappresenta un'ulteriore spinta per questo settore per quanto riguarda gli investimenti tra le imprese che potranno beneficiare della maggiore attenzione alla sostenibilità c'è sicuramente rockwool international che è uno tra i principali fornitori di materiali isolanti per l'edilizia a livello globale basato a copenhagen quindi la sede è in danimarca si crede infatti per quanto riguarda questa società che essa sia ben posizionata per contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica tramite efficientamento energetico degli edifici quindi ragazzi questo è il terzo settore che io vi volevo far notare ultimo settore è chiaramente quello del quello dove rientra l'azienda siemens infatti la pandemia ha inevitabilmente costretto molte società a ridimensionare i propri piani di spesa e sviluppo con la frenata dell'economia europea e globale quindi per quanto riguarda tutto il mondo tuttavia man mano che l'attività migliorerà nel corso dell'anno le aziende dovranno invertire la rotta per poter dare una spinta alla produttività e alla competitività la multinazionale siemens che ha sede a monaco in germania è ampiamente esposta a molti dei settori dove ci aspettiamo di registrare appunto una accelerazione degli investimenti infatti la convinzione che c'è tra gli analisti è che questa azienda sia posizionata particolarmente bene per permettere ai propri clienti di digitalizzare i propri impianti produttivi introducendo quindi componenti software aggiuntive ai processi già in atto nelle nelle loro strutture di produzione quindi ragazzi molto molto importante è valutare attentamente questa azienda e il suo settore per gli investimenti ovviamente ragazzi questa è una mia visione generale dei quattro settori più importanti che secondo me potrebbero performare bene nel prossimo anno o comunque nei prossimi anni perché dopo la chiusura dovuta alla pandemia sicuramente gli investimenti fatti in anticipo da queste società potrebbero dare i loro frutti per quanto riguarda gli utili futuri ovviamente io come sempre vi ricordo che non sono un consulente finanziario quindi vi raccomando sempre di fare le vostre analisi soprattutto quando si tratta di acquistare nel proprio portafoglio azioni di singole aziende vi ricordo comunque a di lasciare un bel commento a questo video se non l'avete ancora fatto lasciate anche un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti e io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti